I paesaggi culturali Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobiadane sono state iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale come paesaggio culturale, al pari della Costiera Amalfitana, dalle Cinque Terre, del Celento e Vallo di Diano, dei Sacrimonti, dalla Val d'Orcia, delle Ville e dei Giardini Medici, dei paesaggi vitivinicoli della Langheroeira e Monferrato. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobiadane sono state iscritte come sito culturale UNESCO nel 2019 a Baku, nella Repubblica di Azerbaijan. Il criterio di iscrizione è il quinto. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobiadane sono un paesaggio vitivinicolo risultato dell'interazione tra natura e persone nel corso di diversi secoli. L'adattamento alla trasformazione di questo terreno difficile e della geomorfologia degli Hogbeck ha richiesto lo sviluppo di pratiche specifiche, tra cui la gestione manuale dei vigneti su pendii ripidi, i terrazzamenti erbosi detti cilioni che seguono i profili del terreno stabilizzando il suolo e i vigneti, e il sistema di coltivazione belussera che si sviluppò nella zona intorno al 1880. Di conseguenza, i vigneti contribuiscono a creare un caratteristico aspetto a mosaico, con filari perpendicolari di alti vitigni, intervallati da insediamenti rurali, boschi e boschetti. Nonostante molti cambiamenti, la storia della mezzadria in questa zona si riflette anche nei modelli paesaggistici. Il sito, collocato in provincia di Treviso, comprende una fascia collinare che dal Valdobiadane si estende verso est fino al comune di Vittorio Veneto. Quest'area è caratterizzata da una particolare conformazione geomorfologica denominata Hogbeck, costituita da una serie di rilievi irti scoscesi allungati in direzione est-ovest e intervallati da piccole valli paralleli tra loro. In questo particolare ambiente l'uomo ha saputo adattarsi coltivando le vite su ciglioni inerbiti. Per secoli questo terreno aspero è stato modellato e adattato dall'uomo, e sin dal XVII secolo l'uso dei ciglioni ha creato un particolare paesaggio a scacchiera, formato da filari di viti parallele e verticali rispetto alla pendenza. Nel XIX secolo la tecnica di coltivazione della vite, denominata bellussera, ha contribuito a comporre le caratteristiche estetiche del paesaggio. La bellussera, ideata dai fratelli Bellussi per combattere la peronospora alla fine dell'Ottocento, prevede una disposizione geometrica delle piante di vite realizzate attraverso l'utilizzo di fili di pali in legno, alti circa 3 o 4 metri, le cui sommità, unite con fili di ferro, si incrociano formando una raggera. Le viti che si arrampicano sui pali vengono fatte sviluppare seguendo i fili di ferro della struttura e formano un vigneto che da una veduta aerea appare come un gigantesco alveare. Questo metodo antico consente tuttora una viticoltura esclusivamente a mano. L'aspetto mosaico del paesaggio è il risultato di pratiche rispettose dell'ambiente e che fanno un uso virtuoso del territorio, oggi come nell'antichità. I piccoli veneti su Ciglioni coesissono con angoli di foresta, piccoli boschi, si eppi ai filari di alberi che servono da corridoi per collegare diversi habitat. I villaggi sono disseminati dalle strette valate o appollaiati sulle sommità. Queste caratteristiche dimostrano l'autenticità e sono documentati attraverso fonti come inventari e catasto, dipinti storici e religiosi e documenti storici che dimostrano l'introduzione dei Ciglioni e il funzionamento del sistema mezzadrile dai primi registri fondiari del XVIII secolo. Nonostante molti cambiamenti e i problemi posti da parassiti, guerre, povertà e l'industrializzazione della viticoltura, molti degli attributi come i vigneti, i Ciglioni e elementi architettonici dimostrano un buon stato di conservazione e le macchie di foresta sono stati mantenuti. I processi ecologici sono di fondamentale importanza per la sostenibilità del paesaggio e dei vigneti. Le minacce sono attualmente sotto controllo, sabendo al stato di conservazione di alcuni elementi necessiti di miglioramento e il cambiamento climatico ha accentuato l'incidenza delle frane. Il paesaggio potrebbe essere vulnerabile a cambiamenti irreversibili dovuti alle pressioni della produzione di prosecco all'interno di un mercato globale in crescita. Proseguono le tecniche agricole di viticoltura per il mantenimento dell'integrità del paesaggio, compresa la raccolta manuale. L'origine del prosecco è molto antica e il suo vittinio di provenienza, il Glera, era già noto all'epoca degli antichi romani che lo utilizzavano per produrre un particolare vino bianco denominato Pucino. Testimonianze della coltivazione della vite nella collina di Alta Marca Trevignana sono infatti rintracciabili sin dall'epoca romana con l'introduzione di nuovi vitigni e la realizzazione di collegamenti stradali. Con l'accaduto dell'impero romano, anche la cultura della vite attraversò una fase critica. Il suo rilancio si è avversato successivamente attraverso il monachessimo Benedettino. Il nome attuale è legato alla torre di Prosecco, nota anche come Castello di Moncolano, vicino a Trieste, costruita a Ienisi del 1300, con la funzione di difesa dalle zone limitrofe famose e particolarmente rinomate per la produzione di vino. Il Glera è un vitigno autoctono da cui si ricava il Prosecco Superiore di OCG, coltivato sui colli di Conegliano e Valdopiadene. È un vitigno a bacca bianca, rustico e vigoroso, con tralci color nociola e grappoli piuttosto grandi, lunghi e con acini di un bel giallo dorato. Il vitigno, vero elemento caratterizzante del Prosecco e delle origini, si è diffuse prima nel Goriziano, poi tramite Venezia, in Dalmazia, Croazia, a Vicenza e nel Trevignano. Lo sviluppo e la coltivazione del vitigno di Prosecco in tutta la fascia culinaria veneto-friuliana risale alle fine del Settecento e agli inizi dell'Ottocento, grazie alla ricerca e agli studi enologici e vitivinicoli. Proprio a Conegliano, nel 1768, venne aggiunta per volere del governo Veneto la sezione Scienza e Agricoltura all'Accademia degli Aspiranti. La produzione si è poi estesa spandendosi nei territori limitrofi pianeggianti di Veneto e Friuli, nei quali, all'inizio del Novecento, grazie alle nuove tecnologie di sfumatizzazione, è nato il Prosecco come lo conosciamo oggi. Nel 1868, Antonio Carpenet fonda la Società Enologica Trevignana ed è con la nascita di questa istituzione che il Prosecco inizia a essere apprezzato e riconosciuto come vino da promuovere e valorizzare. Nel 1877, fonda insieme a Cerletti la prima scuola enologica in Italia. All'interno della scuola nasce il metodo di sfumatizzazione Conegliano-Valdopiatne, messo a punto da Antonio Carpenet, una rielaborazione del metodo italiano che prevede una seconda fermentazione del vino assieme a zucchero e lieviti in autoclave per un tempo di almeno 30 giorni. Nel 1923, venne fondata sempre nella città di Conegliano la stazione sperimentale di viticoltura e enologia, organismo indipendente dalla scuola ma operante sotto la guida degli stessi docenti. Il contributo di questi due istituti fu determinante non solo per il perfezionamento delle tecniche di produzione del vino, ma anche per il ritinsegno del paesaggio rurale che nel Novecento vide qualificarsi sempre più la coltivazione della vite passando da una viticoltura a vita in maritata a quella specializzata a palo secco. L'utilizzo di questa tecnica ideata alla fine dell'Ottocento dai fratelli Belussi caratterizzò il mutamento del paesaggio e portò con sé una serie di vantaggi. La razionalizzazione della cultura e la distribuzione dei tralci su una struttura a raggera sollevata da terra permetteva di avere una produzione più sana e più ricca. Produzione del prosecco La glera, dopo la vendemmia, viene trasferita in cantina per la vinificazione e raccolta in vasche d'acciaio. Gli acini, grazie al sistema di caduta per gravità, arrivano alla pressatura integri con tutto il loro carico aromatico. Le uve vengono trasferite nelle cantine per la vinificazione dove vengono sottoposte a un'operazione di pressatura ultrasoffice per estrarre il mosto fiore che si mette in appositi serbatoi per la decantazione a una temperatura di circa 14 gradi centigradi. Alla fine di questa operazione la parte liquida del mosto viene fatta fermentare per circa 10-12 giorni aggiungendo lieviti autoctoni selezionati in vasche d'acciaio a una temperatura costante di 15-18 gradi. Si ottiene così il cosiddetto vino base che è pronto per essere spumantizzato. La presa di spuma si è effettua grazie all'utilizzo di autoclavie pressurizzate secondo il tradizionale metodo di produzione del prosecco chiamato metodo Charmà o Martinotti con l'aggiunta di zucchero di canna e lieviti autoctoni. Con questo processo si creano le particolari bollicine del prosecco. Verso la fine della sfumantizzazione che dura al minimo 30 giorni si abbassa la temperatura per fermare la fermentazione. Le coline del prosecco di Conegliano e Valdobiadone e i paesaggi vitifenicoli del Piemonte Langheroero e Monferrato sono i siti testimonianzi della tradizione di viticoltura e vinificazione che ha radice in epoche antiche e che continua a essere un'eccellenza italiana. rappresentano inoltre l'interazione dell'uomo con questi territori che ha portato alla creazione di paesaggi culturali e ambienti naturali unici.